Un primo piccolo tassello per mettere in mano l'emergenza e cominciare a programmare i prossimi 30 anni. E' questo il senso del finanziamento di 200.000 euro che la Regione Puglia ha voluto destinare al Comune di Andria, quale proprietario del suolo della discarica di San Nicola la Guardia, impianto ormai chiuso e gestito dalla Danico Impianti, su cui pende anche un concordato preventivo. E' questa la dimostrazione che ci si muove in sinergia tra le istituzioni, ma soprattutto che l'amministrazione è attenta alle problematiche e non bisogna fare inutili allarmismi perché la situazione viene continuamente monitorata. Abbiamo appunto attinto questo finanziamento per porre in essere le misure di emergenza e sicurezza immediate, compreso il prelevamento del percolato e poi chiaramente abbiamo candidato anche la progettualità per ottenere il finanziamento per un intervento più ampio e più esaustivo rispetto alla bonifica del sito. Durante un'apposita conferenza stampa, il primo cittadino di Andria, Nicola Giorgino, ha spiegato come la continua interlocuzione con la Regione Puglia ed il lavoro attento degli uffici comunali hanno permesso un primo passaggio essenziale per prendere in carico un problema che comunque dovrà essere risolto anche in sede civile con la ditta che fino a marzo scorso, quando gli è stata revocata l'autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione, gestiva il sito. In circa otto mesi, infatti, è arrivato questo primo risultato dopo le diverse diffide e ordinanze comunali oltre alle denunce di ARPE e Polizia Locale di Andria. È chiaro che queste azioni verranno fatte, salvo poi ripetizioni in danno, nei confronti della ditta. La Regione ha revocato le autorizzazioni sulla base appunto di una invalidità dei documenti amministrativi che ha prodotto la ditta, in quanto la Regione ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale, per cui quando si dicono cose fuori luogo rispetto all'inerzia dell'amministrazione, è bene rispedirle al mittente e far capire a chi magari si affretta a dire cose inesatte che occorre prima di tutto guardare, riflettere e comprendere le cose. Ma la notizia più confortante è che i monitoraggi dell'ARPA non parlano di un sito inquinato, anche se da adesso in poi sarà necessario attivarsi per gestire in questa prima fase la messa in sicurezza e successivamente per la chiusura. Non c'era alcun tipo di problema di matrice ambientale. Chiaramente trattasi sempre di una discarica e elementi come il percolato e altre situazioni sono nella normalità. Chiaramente era sotto controllo anche il percolato, non c'era nessun rischio, lo ripeto e rispedisco al mittente quando usano il condizionale nell'affermare certe cose. E noi rispetto al condizionale pare che ci sia, abbiamo dimostrato con dei documenti certi da parte dell'ARPA che in quel momento e ad oggi non c'è nessun rischio. La post-gestione prevista per la discarica di San Nicola la Guardia ha un costo di non meno di 18 milioni di euro da reperire nei prossimi 30 anni, costi che non dovrebbero gravare sulle casse comunali a detta del sindaco e dell'assessore all'ambiente e soprattutto non graveranno sull'Atario, su altre imposte regionali e dunque sui cittadini. Ci adopereremo subito nell'immediatezza nel fare il piano di caratterizzazione, nella rimozione del percolato e una sorta di controllo finché poi sicuramente avremo delle risposte positive e affermative che ci permetteranno di completare il processo di chiusura.